Partirei dall'On. Di Stefano per capire che cosa accade nel Movimento 5 Stelle. Allora voi per i ballottaggi diciamo che siete esclusi praticamente in tutte le grandi città. Allora le chiedo, per chi ti fate invece nelle altre? Lei sa perfettamente, conoscendoci ormai da un po' di anni, che non ti fiamo per nessuno perché crediamo che l'unica scelta possibile per liberare le città dall'immobilismo, dai debiti e dalla politica clienterale sia il Movimento 5 Stelle. D'altronde non abbiamo fatto come hanno fatto tutti gli altri, il PD in primis, di creare 10-15 liste a sostegno del Movimento 5 Stelle perché noi ci mettiamo la faccia e crediamo che i cittadini debbano scegliere la tua offerta politica e non debbano essere presi in giro come fanno regolarmente gli altri partiti. Ci consoliamo, dite voi, noi diciamo che abbiamo 10 comuni che vanno al ballottaggio, di cui due città importanti, Asti e Carrara, non abbiamo fino ad ora visto nel Movimento 5 Stelle scandali come sindaci arrestati per appalti truccati come quelli del PD a Lodi e a Terni e nei comuni, vi faccio un esempio, dove amministriamo tipo Pomezia, in soli tre anni il debito è passato da meno 7 milioni a più 15 e le aziende che lavorano con la pubblica amministrazione e vengono pagate in 53 giorni anziché un anno e mezzo, questo è quello che offriamo ai cittadini, poi la gente sceglierà cosa votare ma non importa, il nostro è un percorso lungo ma inarrestabile. Lei pensa però che quello che sta accadendo per esempio a Roma e Torino con la raggia e l'Appendino possa svantaggiarvi, possiate pagare le conseguenze? Ma assolutamente, non è ribalto la domanda, ma cosa sta davvero accadendo a Roma e a Torino? Perché io ripeto, nel frattempo stanno arrestando sindaci in tutta Italia e il nostro problema sarebbe una manifestazione andata male a Torino e il sindaco Raggi che fino all'altro ieri, il sindaco Appendino che fino all'altro ieri era il miglior sindaco d'Italia all'improvviso per una manifestazione andata male per colpa tra l'altro non certo della sindaca è diventata una pecora nera, per favore, andiamo a guardare dove ci sono davvero i problemi, andiamo a guardare a Roma, lei citava Roma e la Raggi ha già ammesso più volte di aver sbagliato a fidarsi di Marra, tra l'altro all'epoca a Suenza Puta un funzionario ogni quattro del comune di Roma era sotto indagine, pagherà se ha sbagliato, il nostro codice di comportamento parla chiaro, se si arriva a condanna ci sono le immediate dimissioni, lo facessero gli altri sarebbe un miracolo tra l'altro, perché abbiamo sindaci e parlamentari condannati in tutta Italia e non si dimette mai nessuno in questo paese. La Raggi ha un compito difficilissimo per la quale la stiamo sostenendo, governare una città che è stata abbandonata per duemila anni, ci metterà del tempo, certamente sì, farà errori, certamente li farà, ma noi operiamo in buona fede e portiamo risultati sempre dove governiamo per un periodo almeno sufficiente per farlo. Certamente il tempo, eccolo qua, Berlusconi, 5 Stelle come i comunisti scendo in campo, in TV Grillo si faceva pagare, i 5 Stelle come i comunisti, chissà se è d'accordo di Stefano? Beh, diciamo che ne abbiamo sentite di ogni, da Berlusconi in particolare, che credo che ormai abbia bisogno di andare in pensione definitivamente, però siamo passati da essere di estrema destra, da essere comunisti, la verità è che non siamo per loro, nei loro canoni, non siamo interpretabili perché facciamo una politica effettivamente nuova e innovativa. Berlusconi io credo che abbia già dimostrato ampiamente di aver rappresentato un fallimento soprattutto di immagine per il nostro Paese devastante, purtroppo mi dispiace notare come in gran parte delle amministrative, e sarà probabilmente così anche alle prossime politiche, la Lega che diceva di non voler fare più nulla insieme a Berlusconi va di nuovo a braccetto con lui, e questo dimostra ancora una volta una cosa, che l'alternanza dei volti, come è stato anche Correnzi nel PD, poi con Gentiloni, Salvini dopo Bossi e compagnia bella, se alle spalle porta sempre gli stessi partiti e le stesse gestioni partitico-clientelari, il risultato è comunque lo stesso, quindi io mi appello ai cittadini, rendetevi conto di chi ha già governato, come appunto Berlusconi e a Lega Nord che ha governato 8 anni, cosa ha fatto, ad esempio sentivo parlare della nostra posizione sull'immigrazione che è molto chiara in realtà, chi ha governato già come la Lega per 8 anni ha firmato ad esempio il regolamento di Dublino che è quello che ci obbliga a tenere gli immigrati sul nostro territorio, quindi è sempre un dire una cosa e farne un'altra, con noi la certezza che hanno gli italiani è che se diciamo una cosa la facciamo, questo è riduttato. Di Stefano, chissà se Grillo si è mai pentito su Pizzarotti, visto il successo che comunque ottiene, poi vedremo quando andranno a finire i ballottaggi. Io credo che la realtà sia abbastanza semplice, non credo che Beppe Grillo si debba pentire o meno, perché non ha fatto una scelta legata a una sua simpatia o meno, Pizzarotti si è automaticamente a poco a poco, già dal primo anno in realtà al Comune di Parma, distaccato dal Movimento 5 Stelle fino ad andarsene, a farsi cacciare sostanzialmente, tra l'altro con un'indagine addosso e di conseguenza di cosa dovremmo pentirci? Noi abbiamo sempre detto, se tu ti fai votare con un programma, porti avanti quel programma, lui quello non l'ha fatto, non l'ha mai voluto fare e di conseguenza con noi non può stare più, non c'è nulla da pentirsi. Senta, invece di Fico che dice che è favolevole allo Ius Soli, cosa pensa? Che la vostra posizione ufficiale è diversa? No, in realtà che voteremo uno Ius Culture, quello che arriverà in aula è di fatto uno Ius Culture, che non c'è motivo di farlo in questo momento, che anch'io come Fico credo che si possa parlare di come rendere funzionante il meccanismo che c'è già, perché il vero problema oggi di chi sta sul nostro territorio è che a compimento dei 18 anni, perché già c'è uno Ius Sanguinis di fatto, però che scatta a 18 anni, uno Ius Soli scusatemi, a compimento dei 18 anni le pratiche burocratiche sono piene di ostacoli, ma snellire questo meccanismo andrebbe fatto oggi, ma certamente non questa butad politica che ha creato il Partito Democratico che serve soltanto a riprendersi dell'elettorato di sinistra che ha perso Correnzi. Io credo che la più grande oscenità di questo momento storico sia che mentre c'è un'indagine su Luca Lotti, ministro dello sport e del Consip, sul padre di Renzi e su tutto quello che sta succedendo, lo stesso governo si prende la responsabilità di andare a toccare degli argomenti molto molto spinosi che diventano poi purtroppo di scontro sociale e politico, non era assolutamente il momento di farlo.